E' ora di tornare al lavoro E' mail Perché tordo se n'è andato questa volta Quando sarà il prossimo episodio I soldi sono davvero finiti Idea per animazione Clic Cara troppe degli S-Word Ho scritto una fanfaction degli S-Word Mi ci è voluto tutto l'anno ma ne sono molto orgoglioso Penso che potrebbe essere un buon episodio Fatemi sapere Ok vediamo cosa abbiamo qui Ed emette sono appesi sul divano C'è una pubblicità per la pancetta e la coca cola Tom entra e si toglie il suo Oh Oh cavoli Cosa? I miei occhi Nella faccia Perché proprio nella faccia? Oh no E' come se non conoscesse neanche i personaggi La testa in giù Con una corda elastica Ma si può sapere da dove viene quel lama Ma non posso trattenere così tanto il respiro Nessuno lo potrà tenere così tanto Eh almeno hanno messo Tommy Bear Via da là dentro La fine Punto interrogativo PS Ho attaccato un po' di arte Ora so cosa devo fare E' come se non conosce D это Per azze Toda la smog può che La malattia 순ıtica Che e la Premata La malattia Questa 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 Questa